buongiorno a tutti oggi ci troviamo nell'agro tra giovinazzo e molfetta per proporvi questa soluzione ottima per passare in famiglia ed in amicizia splendide giornate di festa il lotto è di 1750 metri quadri entrando troviamo un grande viale dove poter parcheggiare le auto proseguendo esternamente troviamo una comoda e grande zona d'ombra ricavata tramite una tettoia in legno con accanto un forno a legna ed una zona barbecue tutta in pietra e un lavello da qui possiamo entrare nell'abitazione di 35 metri quadri completamente ristrutturati dove troviamo un ampio vano con finestra un cucinino ed un bagno dotato di scaldabagno tornando all'esterno abbiamo una zona solarium abelita con illuminazioni a soffitto che serve una splendida piscina rialzata completa l'immobile un terreno adibito principalmente ad univeto la soluzione è dotata di impianto d'allarme volumetrico e perimetrale e di videosorveglianza prenotate subito il vostro appuntamento non perdete questa fantastica occasione ciao alla prossima ciao